ciao ragazzi namaste vado a fare un giro nel paesello vicino al mio paesello certo sono a piedi una bellissima giornata ecco cosa state facendo e rassisti cornuti che bello non è che bello è questo jimbal sì sì bellissimo guardate guardate che aggeggio troppo figo sì sì fighissimo cazzo se dopo che impari un po' a usare questa robetta qua diventa indispensabile per qualsiasi gita per qualsiasi trasferta che minchia racconto eh bello bello guarda 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 chi è questo qua sei impazzito adesso commenti dopo questo video ma vai cagare rumeno di merda succhia schifoso rassista che non sei altro che bello che bello camminare basta parlare da solo dai Daniel per favore basta finito le mie commissioni avestreno sto andando a casa adesso paesello etrusco vi piace oh che bello vediamo se coro se l'immagine è stabilizzata sì è abbastanza che bello a fontanella oggi sono un ragazzo in gamba non sono cattivo sì ecco ragazzi per poter essere localizzato meglio guardate dove sono eh capi? te capi? ok ne ho due chilometri in salita ok see you later